Hey voi, vi ricordate di una volta che vi ho parlato di 21 Buttons? Ecco, sono tornata perché per chi se lo fosse perso o per chi non si era scritto e che quindi ora dovete farlo vi voglio parlare di un social veramente veramente carino Perché? Perché molto spesso capita che mi vedete addosso oppure vedete addosso alle altre persone, magari alle fashion blogger, degli indumenti che a voi piacciono molto e mi chiedete di che marca sono, dove sono stati presi, eccetera eccetera e questo social semplicemente è la risposta, perché? Perché ve lo faccio vedere ora Allora, apriamo l'applicazione ed ecco qui, prima di tutto questo è il mio profilo una foto che ricorda l'estate, giusto perché sapete io amo l'estate e non vedo l'ora che torni l'estate le mie foto, i follower e le persone che seguo perché io seguo anche dalle persone perché appena entrate vi fa scegliere i vostri style e vi trova delle persone che vi possano piacere per seguire appunto il genere di come si passano queste per esempio sono le mie foto, ve ne faccio vedere una che ho appena messo qua per esempio è la mia foto fatta in montagna a Bardonecchia vedrete i video tra qualche giorno e cliccando vi fa vedere appunto che cosa ho comprato sì è vero, questi sono i pantaloni da bambina, ve lo dirò anche nel video perché io ogni tanto vesto il bambino senza problemi pantaloni da sci bambina a 17,99 perché sono anche in offerta e lo pagate di più visita il sito web se poi voi schiacciate ovviamente potete andare a comprare questi pantaloni poi ovviamente c'è la mia felpa H, avrei potuto mettere il cappellino potete tagliare tutti i vestiti che volete voglio anche dirvi una cosa perché condividendo le proprie foto c'è anche la possibilità di guadagnare dei soldi quindi prima di tutto se non mi seguite andate assolutamente a seguirmi il mio profilo ve l'ho detto, potete anche scorrere un po' in home a vedere tutte le cose che vi piacciono tutti i vari stili, poi c'è scopri, condividi il vostro profilo e tante cose che magari scoprirete appunto scaricando l'app non dimenticate di farlo, io tra poco vi lascio al mio video vado a condividere un'altra foto e buon video ma secondo te i gattoni sono preoccupati? tu per niente andiamo a vedere gli altri fiamma sei preoccupata? perché il tuo dorato castello mi sa che tra poco sparisce ehi tu? sei preoccupato? beh tu la faccia un po' da preoccupato ce l'hai eh sei un po' preoccupato Leo? e tu Milta? sei un po' preoccupata? hai fatto miau ti ho sentito è arrivato uno scatolone, andiamo a vedere che cosa c'è dentro buon buon amici, ciao amici siamo qui col mio nuovo scatolone e anche la Fuji è una curiosina perché oggi abbiamo fatto un altro regalo ai gattori non bastava quello di camera mia, no ma questo castello qua siccome è leone è un gran ciccione come potete vedere qua l'ha sfondato è stata Mirta e Artù ha rotto quello abbiamo avuto l'idea di comprarne un altro che sarà sempre grosso uguale ma ci saranno delle modifiche tipo delle scalette delle altre cose solo che so che stavolta siccome è cattivo non ci aiuterà a montarlo e dovremmo farlo io e Andre perché vuole vedere le tue abilità? no perché non ne voglio carina tua scusa è vero vediamo le sue abilità? ti do una mano noi ti guardiamo amore prima di smontare questo così almeno i gattoni controllano direi che è arrivato il momento di montare quello grande amore se vuoi puoi venire ad aiutarci allora questi diciamo che questo deve essere un bel po' migliore di questo perché l'ho cercato un po' più resistente visto la fine che ha fatto questo ma nella descrizione c'è scritto proprio un bel po' migliore? si un bel po' migliore più resistente solo che è quadrato non mi veniva la forma abbiamo anche qui tre ripiani che Andre si farà vedere come aiuta è venuto fuori il topino allora l'altra volta il topino è durato un giorno si aprono le scommesse per quanto durerà questo topino quindi iscrivetevi nei commenti ti sta dando una mano? sale non ci credo Andre c'è un altro topino vuole provare il nuovo castello non lo vuole provare il nuovo castello ci sono troppi pezzi aiuto dammi una mano questa è la casetta di Arturo ma questa è di fiamma ci sta solo fiamma tu dentro topino oh mio dio ma zacco è Harry Potter ma prenderlo vogliamo l'ospedale dei cani amore vieni qua vieni qua amore non sei Harry Potter ma senza volo è più stancato no non vuole venire qua è sempre cagato il suo amore non sei Harry Potter tranquillo qua c'è una batteria Andre devi trarmi fuori questo ti passo i pezzi sai che so fare il tuo coliere? non lo voglio vedere il tuo coliere zacco è un ospedale dei cani portatile questo è bello morbido oh sascia qua c'è già una mia versione se vuoi quello di Arturo l'ho trovato questo sarà il preferito di Arturo guardate che bello no no voi non potete vedere ma c'è Buzz guarda come gli piace quando una persona ha un amico deficiente allora iniziamo non ho più voglia start uno let's go per senso che devi alzare le braccia faccio 1 start, allora un quadrato da mettere in terra, allora abbiamo il nostro quadrato di partenza lo facciamo verso lì, l'hai per caso tutta la vita, dal quadrato di partenza dobbiamo mettere sotto C1, ci siamo arrati anche di seconda videocamera così con questa possiamo vedere quanto è sexy Andre e quanto sarà bravo a montare il castello, siamo pronti? C1, che penso sia questo, C1 da mettere nei buchi qui, pronto? Go! Vuoi fare capire che questo è C1? Negli altri c'è scritto qualcosa, lì non c'è scritto niente, ah per esclusione andiamo? Sì e manca C1 Abbiamo quasi finito, abbiamo messo le rondelle, prendi un gatto vediamo se gli va bene, ehi venite a provare la vostra nuova cuccia, vieni è nuovo, mi guarda malissimo l'appoglina, allora sopra tu prendi 2H, H è quello senza graffi, questo, bravo, e li metti sul lato, andi aspetta gira per così, ne manca una qua, allora tu hai il lato corto, tu ce l'hai corto, no tu ce l'hai corto, 2H e io metto invece 2I, I è sempre, eccolo qua, questo, visto per fare un lavoro migliore, si chiama proprio rondella quella, sei bravissima, complimentoni, io la chiamo brugola, ma probabilmente è sbaglio eh, usa la rondella, uso anche il dito, che chiameremo brugola, stai fermo, vai Andre fai vedere la tua possentività, aspetta fermo, ho un'idea, si sta perdendo di tutto, si sta perdendo, diciamolo così che ti sei fermo a quello, vai, tu gira dalla parte o gira dall'alto, vai, tu sto solo girando io, mi sembra, ahhh, lo tengo con la testa Andre, dai, dai che sto tenendo, lo stai tenendo, con la testa, oh mio dio no che è vuota, ahhh, tira fuori Luke che c'è in te, fortissimo, ok, sai, l'abbiamo messo e tanto regge, no, no, dai, ashtag io sto aiutando, ashtag io tengo una cosa ferma, non è vero, lo scrivo nei commenti che io sto aiutando, vai Andre, io tengo fermo questo e tu gira tutto il resto, non ce la faccio, no, no, tutto questo proprio, tira, aspetta, aspetta, vai, ok, siamo già a buona parte, non abbiamo finito, si potrebbero mettere qua dei gatti, uno qui, uno questo, uno, finito, venite a provarlo, è bellissimo, c'è pure il pomolino qui, fatto, non ti mordiamo ed andiamo avanti, allora, ora abbiamo quella, eh, questa, leva questo, ma ci stava, quella va davanti, questa va verso di me col tondo, devi farlo tu, no, te lo tengo fermo, no, è il tondo, è il tondo, dobbiamo togliere tutto, no, Sabri, eh sì, perché prima andava messo lì, ma come andava, no, sì, guarda, Andre, ma tu sei una pipa, abbiamo messo, abbiamo fatto il numero uno e poi abbiamo fatto il numero quattro, bisogna mettere il due che è questo che va qua, ma io ti odio, non c'è da vivere, sì, era un riscaldamento, Andre, come in palestra, allora, in quello alto, Andre, bisogna mettere una bella base che è questa, perfetto, e sopra mettere quelli F, sono quelli da due senza la vite, esatto, quei due lì, con queste viti qua, vai col pezzo contrario, bravo, e sopra gli F che sono questi qua, ma non c'è, è sicura, Sabri? Sì, senza questo, guarda i gatti come scrutano, nessuno, a me non stavo parlando nessuno, nessuno, nessuno è incuriosito dal nostro nuovo castello, che bello, un altro legalo fa alimentare dei gattoni, speriamo di no, giro, a morte? a morte, fallo con la potenza, eh, che problemi, dai! c'è solo in mano a pulire, buona sacca, perfetto, allora, la prima parte è montata, guardatela che bella, oh, a sale mi piace, sale, devo montare, ehi, datemi una G, molla, aspetta, a posto, guarda che a Pisa fanno le cose così, per favore, amore, vieni a darci una mano Sasha, ci manca poco, grazie Sasha, hai comunque fatto più di lei, tranquillo, chi vuoi tu? E' tipo, sai vecchi nel cantiere lui? Lui si mette qua e osserva Ciao! Ciao! Grazie a tutti. Salem, ma perché devo avere un gatto con dei problemi? Salem, scendim! Ce l'abbiamo fatta, ora la scaletta è montata, manca solo l'ultimo pezzettino e poi ci siamo. Wow, wow. Salem come attento. E lui controlla, questo è il suo castello. Ma io lo lascerei anche questo, lo metterei sopra. Girati un attimo, guardami, con questa luce divina dietro di te. Sto soffrendo tantissimo. Non ti mangiare, Andrea. Molle tu! No, moglie! Vuole girare anche lui. Hola! Ragazzi. Eh beh, adesso devo andare a provarlo, castello montato. Ed ora è il momento di vedere se piace agli altri. Ehi, Fiamma, c'è un regalino per Fiamma che l'ha rotto tutto questo castellino. Miau 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 miau. Bello, morbido. Eppure è più grosso. Guarda, a Fiamma piace. Ma stava dormendo. A Fiamma piace tantissimo perché è morbido. Ma anche il pavimento sarebbe piaciuto, stava dormendo. Sì, ma guarda come l'ha rotto quello lì. E se è Mirta, si vede. No, è lei. E anche... Può di dove la infiliamo? Perché Artù andrà... Puji vuole andare qua. Ma quello è piccolino. Ma no, lo adora. Gli mettiamo anche un po' le istruzioni così si fa una cultura. Puji, per me va in quello in alto. Eccolo lì la mia Puji. Ma che bello. Dal culo però. Mettiamo anche il zacco. Arriva Puvi. No. Dentro qua tu. Mamma miau. Sta chiamando l'amico. Cucu. Non si vede più sparito, Sabri. Eccolo lì. Ma ciao. Sala è mandata a fargli visita, Sabri. Sono in due. Arriva anche un vasino, vasino. Vieni qua, amore. Dentro. No. Qua dentro. Mamma mia, che bello. Ma quanti ce ne sono? Uno, due, tre, quattro, cinque. Chi ha? Arturo. Arturo. No, raga, dove è Artù? Sta di qua. Tanto a loro piace, non c'è il posto per Arturo. Arturo. Quando è aperto o non è uscito? Andiamo a cercarlo. Ciao. 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 Grazie a tutti. Ti abbiamo trovato eh brutto gatto puzzolente, allora direi che a loro intanto è piaciuto, visto che ho dovuto chiamarla Papa per cercare Arturo, ma loro sono rimasti qui a giocare e direi che è solamente fatto. Arturo si era nascosto qui sotto, sto Befanone, direi che adesso va smontato questo perché dobbiamo buttarlo via. Amore, io dico che il gatto mi è piaciuto, dico che noi due siamo stati bravissimi nonostante io sia con questa bellissima faccia. Ho fatto un sacco di cose, Arturo lascia stare Piamma e già mi hai fatto prendere un colpo che non c'eri più. Io vi invito a lasciare un bel like e a consigliarmi quale altro gioco posso comprare per i gattoni perché sapete che a me faccio viziarli. Vi mando un bacio grande grande grande, ci vediamo domani con il prossimo video. E non dimenticate di scaricare 21 Buttons e mettermi il follo.